Carissimi, ma lo sapete che io oltre a YouTube ho aperto da poco un canale Twitch? Si chiama La Voce di Chi non ha Voce TV. Seguitemi anche lì. È molto semplice, vi create il vostro nickname, il vostro profilo su Twitch, ci mettete due secondi, e ogni sera mi potete seguire in diretta alle ore 20, tranne il venerdì e la domenica. Su il vostro nickname potete commentare quello che sto facendo in diretta. Fatelo, ci voglio in due secondi, e poi in più, non è obbligatorio, ma se volete in più, vi potete abbonare. Costa pochi euro, e se avete Amazon Prime, per avere i pacchi, sapete Prime, no? Per avere i pacchi in un giorno lavorativo, e non pagare le spese di spedizione, se ce l'avete, vi potete abbonare al mio canale Twitch gratis. Per voi è nulla, un click, è gratis. E al posto vostro Twitch mi manda qualche soldino, quindi mi regate dei soldi gratis, che non mi mandate voi, ma me ne manda Twitch. Faccio vedere come si fa, non andate via, guardate, 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 guardate. Prima di tutto cercate Twitch, Twitch su Google, oppure dal cellulare scaricatevi l'app di Twitch. Guardate che bello, questo è Twitch, stoppate quello che parte, vi create ovviamente il vostro nickname, con email, password, eccetera, il vostro profilo, come vedete su YouTube, e cercate il mio canale. La voce di chi non ha, non ha voce tv. Eccolo qua, eccolo il mio canale, guardatelo, guardate che bello. La voce di chi non ha voce tv, guardate che bello. Lo aprite? Faccio vedere anche come dovete fare per seguirmi, guardate, va beh, parte il mio trailer, con tanto di palinsesto, ogni sera alle ore 20, tranne il venerdì e la domenica per ora, e poi cliccate sul cuoricino o su seguimi. Fatto! E non vi resta che aspettare la sera. Vi arriverà anche la notifica, se avete il segui, e poi potete commentare col vostro nickname in diretta. Poi in più, vi dicevo, vi potete abbonare. Guardate, tasto abbonati, ci cliccate sopra, vale sia da computer sia da cellulare, andate giù, e c'è l'abbonamento, abbonati 3,99€. Se lo fai a pagamento, grazie. Se per caso invece hai Amazon Prime, che usi quelle robe tue per comprare su Amazon, se ce l'hai, ti puoi abbonare gratis, gratis, non 3,99€, gratis. Come? Guarda qua, ricevi un abbonamento mensile gratuito, e non solo per un mese, ogni mese, finché avete Amazon Prime, potete sempre riabbonarvi gratis. Vi dovete però ricordare di rifarlo ogni 30 giorni, di cliccare su rinnova abbonamento, sempre gratis. Guarda, cliccate su iscriviti, guardate, mi si apre questa pagina e voi dovete semplicemente cliccare su accedi. Vedete qua in alto, metto un po' di zoom così, vedete ancora meglio. Cliccate su, scomparso, cliccate su accedi. Ok? E ora inserite i vostri dati di Amazon. Ora inserisco i miei, così vi faccio vedere come si fa. nome passo, tanto non la vedete perché ci sono i pallini. Inserisco i miei dati, ho sbagliato, perfetto. Ok. Mi sono logato. E ora che dovete fare? Semplicemente in alto destra ci sarà il vostro nome, nel mio caso Enrico, ma qui il vostro, e cliccate su collega l'account Twitch. Cliccate qui sopra, collega gli account e come per magia, collega i seguenti account, il vostro Amazon con il vostro profilo Twitch. Conferma. Basta! Basta, è fatta, è fatta, è fatta. Ora semplicemente potete chiudere qua. Tornate a Twitch. Tornate a Twitch. Guardate. Di nuovo nel mio canale. Ricliccate su abbonati. Tornate giù. Guardate che accade. Ah, non ho aggiornato la pagina, scusate. Aggiorniamo la pagina. Ovviamente aggiornatelo. Ricordate, guarda, non c'è. No, dovete aggiornare la pagina. Non venite a dire non funziona. Abbonati. Andate giù. Guardate che c'è. Guardate che c'è, che bello qua. Usa abbonamento Prime. Lo spuntate. Abbonamento gratuito per un mese. Cliccate su abbonati a Prime e date conferma. E siete abbonati gratis per 30 giorni. Gratis. Poi ricordatevi alla fine di quei 30 giorni di ricliccare su rinnova. A quel punto trovate la scritta o abbonate di nuovo o rinnova. Ci ricliccate e se avete ancora Amazon Prime, di nuovo a 30 giorni. Così all'infinito finché avete Prime. Lo fate oppure no? Quanto ci ho messo io? Quanto ci ho messo? Due minuti. Se voi lo fate, a me Twitch dà dei soldi al vostro posto. Metti che lo fai tu, lo fai tu, lo fai tu, lo fai tu, lo fai tu. Sono pochi spiccioli, più o meno neanche due euro a persona mi dà Twitch. Però mettete tanti di voi, due, 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 per me è un bel russoletto. Siccome la monetizzazione di YouTube e anche di Twitch è ridicola, supportatemi anche così. In questo caso è gratis. Se poi non avete Amazon Prime e non vi interessa averlo perché non comprate su una Prime, beh, potete farlo a pagamento. 3,99 euro. Dal computer, se non sbaglio, costa forse di meno che dal cellulare. Mi tenete conto anche di questo. Salete Prime e ripeto, gratis. Fatelo, fatelo, fatelo. Vi ringrazio. E soprattutto non manchiate. Ogni sera alle ore 20, tranne vendita e la domenica. Anzi, se per caso non ve ne frega niente perché non vi piace Twitch, vi basta YouTube, voi potete anche fare sta roba qui. E poi non vi guardate nemmeno. Fatelo. Anche se poi non mi seguirete, non è importante. Ti credi il tuo profilo in due minuti. Fai la tua email, ti registri a Twitch. Poi fai questa procedura qui, colleghi il tuo Prime a Twitch, clicca su abbonati, poi puoi anche non seguirmi, però fallo perché mi dai dei soldi gratis. Poi ricorda semplicemente, più o meno ogni tanto riguardarsi, dopo un mesetto, guarda se è scaduto, perché se non è scaduto c'è scritto che ho ancora abbonato. Se compare rinnova abbonamento o abbonati, vuol dire che lo rifai sempre gratis. Ogni mese te lo ricordi e a me arrivano dei soldini. Che non mi dai tu, mi dai Twitch. È come se tu nel tuo abbonamento di Amazon Prime, c'hai Prime Video, spedizione gratuite, in un giorno relativo in più, puoi abbonarti gratis a me, o chi vuoi, ma in questo caso a me, Twitch, mi dai dei soldi al posto tuo. Lo fai? Ti ringrazio di cuore, è molto semplice. Se avete dei problemi, se non ce la fate, se vi dà errore, scrivetemi in privato. Dal cellulare c'è l'app, appunto, ma è la stessa cosa sostanzialmente. E se guardate in descrizione nel primo momento, ci sono anche le istruzioni passo dopo passo, dove cliccare, eccetera, se non ci riuscite, seguendo quello che vi ho detto qui a voce. O comunque scrivetemi in privato, sapete come, Facebook, Instagram, Whatsapp, pubblico. Grazie, 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 grazie. Se vi piace anche, oltre a darmi un supporto economico, anche l'idea di seguirmi, seguitemi tutte le sere. Lunedì cultura, consapevole, storia o filosofia. Martedì e giovedì si gioca, il gioco principale che di volta in volta si cambia quando si finisce. Mercoledì musica e sabato giochiamo per ora a calcio. E football, poi più avanti il gioco secondario potrà cambiare. Vi aspetto, ragazzi. Più avanti introdurrò anche le live a tema, dove discuteremo e avete anche la possibilità di entrare dentro su vari argomenti. Ciao, grazie, fatelo, 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 fatelo.